Ciao a tutti ragazzi, da oggi sono disponibili le lezioni di canto tramite Skype. Di cosa avrete bisogno? Di un microfono, di una scheda audio, di cuffie o casse possibilmente, di una buonissima connessione e di un ambiente dove potete cantare liberamente senza nessun tipo di costrizione. Inoltre le lezioni tramite Skype permettono di registrare la lezione e di poter interagire e spedire o inviare materiale didattico a riguardo. L'importante, ripeto, è avere un luogo dove poter esercitarsi, dove poter cantare, proprio per avere un'interazione simile a quella di una lezione di canto canonica. Inoltre potremo lavorare con tutto quello che è la vocalità estrema, dagli esercizi di respirazione alla modulazione alla fonazione, quindi tutto quello che riguarda il crawl, lo scream e il canto estremo in genere. Per tutte le informazioni ci sono i link in descrizione. Vi aspetto!